Salve a tutti per le guide didattiche di Easy Dida voglio spiegare un pochino a grandi linee LibreOffice LibreOffice si trova sia nella versione installabile, creare presentazioni, testi, disegni e pdf sia come programma portabile una volta installato LibreOffice bisogna fare attenzione se si ha un vecchio computer si usa la versione a 32 bit se si ha un computer a 64 bit e Windows 10 bisogna usare assolutamente questa versione perché non sono compatibili e quindi il sistema lo rifiuta ecco, ho scelto per questa guida per questa raccolta di Easy Dida la versione stabile di LibreOffice che non è l'ultima la versione Steam ecco, una volta partito LibreOffice si presenta così diciamo la suite io posso scegliere di aprire un file vecchio un file remoto, recente dei modelli ecco, quello che interessa di più è un documento divwriter un foglio elettronico una presentazione un programma per il disegno vettoriale scrivere la matematica e il database quindi LibreOffice veramente mette a disposizione una suite per l'ufficio assolutamente completa e ovviamente si possono utilizzare i lanciatori perché lui si installa come tutti gli altri programmi ecco, LibreOffice F-M-G-H-I-L LibreOffice e quindi io posso cliccare da qua senza aprire tutta la suite oppure portarmi il lanciatore sul desktop di Writer perché è quello che forse si userà di più in quanto è il corrispondente di Word ecco, semplicemente prendendolo e trascinandolo ecco il collegamento ecco, però vediamo un po' la suite quindi potrei fare anche partire LibreOffice semplicemente da qua ecco, LibreOffice ha ProWriter come esempio è un programma Writer assolutamente simile a quelli dei laboratori testi più classici che si conoscono però ha alcuni vantaggi LibreOffice primo utilizza il formato aperto nel salvataggio quindi l'ODT pur non impedendo all'utente nel salvataggio con nome adesso chiamiamo prova ecco prova guarda scrivendo lo giusto ok non impedendo all'utente di salvarlo nel formato che vuole quindi nella finestra di salva con nome LibreOffice non è vero che obbliga all'usare il formato ODT che peraltro è quello più patrocinato dalla comunità europea OpenDocumentest perché è un documento aperto si sa cosa si passa nei formati e nelle informazioni e non ci sono delle intrusioni truffaldine nei nostri dati però se uno ha bisogno di salvare per un formato che non è il formato ODT ma il formato DOC DOCS XML o addirittura HTML o formato testo lo può fare scegliendo qui dalla finestra il formato di uscita quindi se io voglio dialogare bene con gli ultimi della famiglia Microsoft lo chiamerò prova ecco e lo salverò in DOCS salva ecco quindi lo potrò poi dopo riaprire usa il formato Sì ecco io l'ho messo sul desktop adesso potrò trovare un prova DOCS ecco qua proprietà ecco che è il mio documento in Macrofon Word quindi la compatibilità è assoluta e questo ho voluto metterlo in chiaro perché non si pensi che LibreOffice sia un programma chiuso a se stesso uno dei valori di LibreOffice è assolutamente il salvataggio in PDF posso esportare questo documento in PDF e quindi distribuirlo come formato assolutamente leggibile ai più quindi io cliccando qua prova PDF sul desktop salva vedrete fra un po' eccolo qui prova PDF ha fatto il PDF quindi LibreOffice è comodissimo per fare file che vanno sul web o possono essere distribuiti sotto questo formato che non è più modificabile facilmente insomma dagli utenti per il resto si presenta come un normale elaborato a testi qui c'è il menu strumenti opzioni quant'altro in modifica di testa è un po' diverso nella gestione delle tabelle da come siamo abituati a fare però è molto utile ha una sua gestione molto semplice appena si apre una tabella qui sotto c'è tutto il controllo di tabella si può costruire sopra sotto dividere le tabelle mettere bordi sfondi testi e quant'altro molto intuitivo possibilità assoluta di manipolare i bottoni di avvio delle palette di lavoro con il tasto destro pulsanti visibili pulsanti non visibili ecco è un elaboratore testi a tutti gli effetti molto molto completo i font sono quelli di microsoft se è microsoft ecco si di microsoft perché stiamo facendo una video guida su microsoft quindi tutti i font che ha microsoft ci sono dentro libero office le gestioni del test anche qui fatte a stili e come si può vedere dai bottoni sono un po' diversi da quelli che magari uno è abituato a vedere ma sono assolutamente simili e semplici anche i menu bar degli strumenti righello zoom sono molto riconoscibili non c'è molto da imparare su library office se non dire su writer che è il caso solo di usarlo una delle cose più importanti è l'esportazione in pdf per quel che riguarda il library office la suite voglio ricordare un altro strumento che sarà molto usato Impress il programma per la presentazione Impress è in tutto uguale ai normali programmi di presentazione online o residenti di case produttrici e proprietarie con le stesse funzioni di introduzione dei contenuti come si vede questa è la palette del disegno quella altra è la palette dei contenuti qui avete tutte le proprietà degli oggetti che inserite all'interno anche qui voglio sottolineare che una volta fatta la presentazione voi potete salvarla uscire dal formato open document presentation o dp ma salvarla in pdf l'esportazione in pdf è di un'utilità strepitosa perché significa poter mettere sul web le nostre presentazioni e fare in modo che tutti le possano vedere a prescindere da con cosa lo stanno guardando il pdf è diventato ormai uno standard di transizione di documenti sul web e un programma che così facilmente ti permette di introdurre e di salvare in pdf è fantastico possiamo anche esportare per il web possiamo esportare questo pdf ma ha tutti questi formati ma addirittura lo possiamo come pagina web e quindi la nostra presentazione farà diventare un microsito naturalmente c'è l'inserimento delle immagini testo front work e quant'altro che siamo abituati a vedere nei normali programmi di presentazione che altro dire può incorporare in musica immagini video e così via quindi Impress è veramente un programma per la presentazione di tutto rispetto non gli manca assolutamente niente anzi ha una semplicità come si vede introdurre immagini audio video grafici riquadro testo collegamenti esterni dal punto di vista didattico per le presentazioni è utilissimo perché io posso distribuire ai ragazzi gratuitamente questo programma e non avere nessun problema di compatibilità con i lavori che fanno i ragazzi fra di loro è un problema incredibile nelle scuole avere una compatibilità di formati e molto spesso i ragazzi fanno delle presentazioni che non possono vedere perché non hanno lo stesso programma ecco con questa schermata mi preme mostrare come impre se non abbia nessuna difficoltà come vedete a mostrare ed elaborare file fatti con altri formati questo è un ppt e quindi come vedete lui interviene tranquillamente nei file che vengono da altri formati quindi è assolutamente intercambiabile con altre con programmi che vengono da altri mondi diciamo ecco adesso voglio inserire un test in questo in questa presentazione che è stata fatta con un altro programma di presentazione lo chiamo prova ecco ci scrivo dentro qualcuno giusto per evitare queste critiche che impre lavora solo con se stesso con un formato open document presentazione o dp in realtà impre anche come word writer salva in moltitudini di formati in questo caso ha visto che è un ppt continua a salvarlo per un ppt e anche ha capito che è la versione del 2003 però posso salvarlo anche in pps x tantissimi il suo nativo sarebbe questo o dp quindi posso convertirlo da una parte all'altra il valore del software libero dal punto di vista didattico sta proprio qua la possibilità di poter dialogare con chiunque quindi un programma che permette ai ragazzi e agli insegnanti di fare una cosa e di poter essere vista da chiunque con qualsiasi sistema operativo abbia questo è un valore didattico che tengo a sottolineare in questa guida non solo per quel che riguarda il programma di impress per fare le presentazioni ma per quel che riguarda la scelta del software sulla presentazione poi se qualche funzione è un po' diversa da quelle che siamo abituati a usare qualche forma non c'è ci sarà qualcosa altro in più ma il valore fondamentale nel punto di partenza è la compatibilità e la visibilità ad altri non entro nel merito di LibreOffice per quel che riguarda il database e il programma d'oro per il disegno perché sarebbero una guida troppo lunga questa guida ha la pretesa di dare un'informazione generale su LibreOffice e per far vedere che cosa vuol dire avere un software libro ecco questo è il programma di disegno è un disegno vettoriale alla LIM è una funzione eccezionale basta prendere la matita posso disegnare quello che voglio posso fare degli oggetti spostarli posso produrre disegni forme grafiche che poi utilizzo dove mi interessa importare e esportare e anche qui salvataggio PDF mettere collegamenti e quant'altro non è sicuramente una guida esaustiva è solo un punto di partenza mi rendo conto benissimo era solo per far capire che LibreOffice è un office completo che può assolutamente dare quelle risposte alle necessità scolastiche sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista di comunicazione con gli altri sistemi LibreOffice una volta installato su tutti i sistemi da XP a Windows 10 in questa versione sarà assolutamente operativo per le guide di EasyReader e per dei consigli didattici Francesco Fusillo e buona sperimentazione di LibreOffice